Immagina un programma che ti dia la possibilità di gestire tutti i tuoi conti, tutte le tue spese, senza fare fatica. Immagina di non dover più tracciare le tue spese a mano sul kakebo ogni giorno. Io seguo tante persone in consulenza e so che tracciare le spese è un po' la cosa dove le persone fanno più fatica perché bisogna ricordarsi tutti i giorni, bisogna mantenere l'abitudine di farlo. A proposito, se ti interessa avere una consulenza per la gestione dei soldi, puoi scrivermi una mail al mio indirizzo di posta fabiomarchionecoachchiocciolagmail.com Avere il controllo delle proprie spese e sapere dove vanno a finire i nostri soldi è una cosa fondamentale per avere il controllo sui nostri soldi. Altrimenti, come dico sempre, se non sei tu a controllare i tuoi soldi, saranno loro a controllare te. Quando ho parlato con il creatore di Finance Drip, io sono rimasto a bocca aperta. Ho detto, cioè questa cosa è una bomba, ne voglio parlare assolutamente sul mio canale perché so che può aiutare tantissimo le persone che mi seguono. Io stesso ho iniziato ad utilizzarlo. Avere uno strumento del genere rappresenta davvero una svolta nella gestione dei soldi. Ma bando alle ciance, adesso andiamo al computer e voglio mostrarti come funziona Finance Drip e tutto quello che puoi fare grazie a questo programma. Perfetto, eccoci all'interno di Finance Drip, in particolare nella sezione della gestione dei soldi. Per avere questa parte dove possiamo gestire le nostre spese, ragazzi, l'investimento è di 29 euro l'anno. Costerebbe 49 euro, ma i primi 50 che lo acquistano inserendo il codice sconto FABIO20 possono averlo a soli 29 euro l'anno. Che ragazzi è davvero nulla perché, ora vi faccio vedere come potete risparmiare tempo e soldi. Qui intanto abbiamo il nostro budget annuale con le nostre entrate, le nostre uscite e la nostra capacità di risparmio. Ok? Questo già è una figata. Poi abbiamo, se vogliamo, l'analisi delle spese, le categorie, le sottocategorie. E poi abbiamo questo grafico veramente, veramente fighissimo, dove abbiamo la divisione delle spese per ogni mese, le spese che sono essenziali, le spese non essenziali e da questa parte ricorrente o non ricorrente. Allora, per prima voglio farvi vedere una funzionalità che vi farà risparmiare parecchi soldi, e cioè la lista dei desideri. Cosa vuol dire? Che, metti caso che io voglio acquistare, regalare a mio marito, un rasoio elettrico. Ecco qui che io ho, da Amazon, posso sapere qual è il momento migliore per acquistare questo prodotto. Ad esempio, qui vediamo che adesso è un momento molto interessante, perché il prezzo di questo prodotto di oggi è il 18% più basso della media, perché normalmente costa 79,54, adesso costa 64,99. Quindi soltanto facendo questo avete risparmiato i soldi per, appunto, fare l'abbonamento annuale a Finance Drip. Come faccio per fare questo? Io semplicemente vado su Amazon, vado a cercare un prodotto a caso, in questo caso, non so, facciamo l'aspirapolvere, vado a copiare il link, vado qui, faccio aggiungi prodotto, incollo il mio link del prodotto che voglio monitorare, eccolo qui, aspirapolvere, vediamo che il prezzo medio è 267, invece adesso è 299, quindi non è un buon momento per acquistarlo, però so che può scendere anche a 239 euro. Ok ragazzi, quindi soltanto con questo potete risparmiare un sacco di soldi, ma poi andiamo a vedere un po' la parte di gestione dei soldi, che è quella interessante. Innanzitutto io qui posso collegare tutti i miei conti correnti, ok? Quindi ho la gestione dei soldi in un unico posto, non devo andare a aprire il conto di qua, il conto di là, guardare il kakebo, guardare la carta prepagata, perché posso mettere veramente tutto qui. Ci sono un sacco di conti e io semplicemente posso andare a cercare il mio conto, ad esempio, ad esempio Intesa San Paolo, ecco qui che io ho il conto Intesa San Paolo, andrò qui e verrò reindirizzato per effettuare l'accesso al mio conto corrente. Ecco qui, una volta arrivato qui, codice titolare, PIN, vado su Continua e avrò integrato il mio conto corrente su Finance Drip. Poi, altre cose interessate, veramente ragazzi non so da dove cominciare perché c'è un sacco di cose divertenti, anzi, vi faccio vedere questo, limiti di spesa. Molto spesso, quando andiamo a creare un budget e vogliamo destinare un tot alla spesa alimentare, a volte non ci rendiamo conto se stiamo sforando oppure no dal budget. Questo, spesso in consulenza, mi viene chiesto. Ecco che Finance Drip va a risolvere questo problema. Come faccio a saperlo? Mi basta impostare un limite di spesa. Posso aggiungere il limite di spesa, che potrebbe essere, non so, ristoranti, caffè, ristoranti e bar. Decido che il mio budget, il mio limite di spesa è di 50 euro mensile. Tac! Ecco che lui mi imposta il limite e quando io mi avvicinerò al limite di spesa, Finance Drip mi invia una mail, un alert, che mi dice fai attenzione perché su quella categoria sei arrivato al limite. E anche questa, ragazzi, è una bomba, perché questo vi garantisce di rimanere nel vostro budget, che è una cosa fondamentale e importante per la gestione dei soldi. Poi, andiamo a vedere proprio come posso, invece, automatizzare la categorizzazione delle spese. Voi sapete che, spesso sul canale, parlo del dividere le spese in categoria, ok? Questo perché io ho modo di capire dove spendo di più, dove spendo di meno, dove devo andare a porre il rimedio, perché magari, appunto, sto sforando dalle mie entrate, quindi sto spendendo di più di quello che guadagno. Ecco che Finance Drip ve lo fa fare in automatico. Ad esempio, io qui ho già fatto delle cose automatiche, come ad esempio la farmacia Santa Teresa, ho detto di farla rientrare in salute e farmaceutica. Poi posso aggiungere una categoria, ad esempio l'autogrill, io posso metterlo, se voglio, in viaggio, perché potrebbe essere in viaggio, oppure in trasporti. E lui mi chiede, vuoi impostare la stessa categoria per altre transazioni simili? Io gli dico sì, e da adesso in avanti, Finance Drip, ogni volta che ci sarà una transazione di questo genere, me la metterà nella categoria che io gli ho indicato. E questo, ragazzi, vale tanto di quel tempo che voi non vi potete neanche immaginare. Anche qui io l'ho fatto, ad esempio, con lo stipendio, quindi ogni volta che il beneficiario è Luca Bianchi, lui va a mettermelo nella categoria stipendio, questa volta appunto nelle entrate. Qui, ad esempio, ho l'S lunga, aggiungi categoria, lo vado a mettere in cibo e bevande, spesa alimentare e anche qui. Vuoi impostare la stessa categoria? Sì. Ed ecco che lui, andiamo a vedere, S lunga, Fineco, spesa alimentare. Andiamo a vedere nelle altre, S lunga, Fineco, spesa alimentare. Cioè questa, ragazzi, è veramente una bomba, perché vi fa risparmiare una marea di tempo. Io poi quando vado qui, ecco qui che ho tutte le mie categorie di spesa. Perfetto, quindi ragazzi, questo è un po' come funziona Finance Trip, la parte di gestione delle spese, poi ci sono molte altre funzioni che potete avere con dei piani che costano leggermente di più, ma ragazzi non parliamo di una cosa esagerata. Poi sicuramente farò altri video per farvi vedere anche queste funzionalità, però ad esempio una interessante potrebbe essere quella degli immobili. Cioè se voi andate a inserire i vostri immobili o il vostro immobile, Finance Trip, a seconda dell'andamento del mercato, vi darà la valutazione del vostro immobile nel tempo. E questo è molto, molto interessante, perché poi, ad esempio, anche questa che è una funzionalità in più, abbiamo il centro di monitoraggio, dove vi dice tutto il vostro patrimonio, il tasso di liquidità, la vostra capacità di risparmio, le previsioni in base alla vostra capacità di risparmio e tante altre cose. Abbiamo tutta la parte degli investimenti, ma abbiamo anche la parte di protezione, dove ad esempio Finance Trip mi può dire come dimensionare il mio fondo di emergenza. E questa è una cosa veramente interessante, perché io posso capire quanti soldi devo avere da parte per stare tranquillo, per avere una serenità finanziaria. Come vi dicevo, i ragazzi di Finance Trip mi hanno dato uno sconto speciale per le prime 50 persone che si abbonano a questo strumento di risparmio. Come vedi, costerebbe 49 euro l'anno, ma se tu vai su acquista, ovviamente, prima devi fare la registrazione, poi avrai il tasto acquista. La registrazione, ragazzi, vi dico che è completamente gratuita e io comunque vi lascio il link nella descrizione appunto per andare a iscrivervi e acquistare il pacchetto. Andate ad aggiungere il codice promozionale FABIO20, fate applica ed ecco qui che il prezzo scende a soli 29 euro. Ragazzi, parliamo di due caffè al mese per uno strumento che ci può semplificare la vita, semplificare la vita, far guadagnare tempo e soldi e questa non è una cosa da sottovalutare. Ma la cosa interessante cioè che mi ha fatto scegliere di collaborare con loro e di utilizzare questo strumento perché lo sto utilizzando anche io è il fatto di avere tutto sincronizzato, di avere tutto sotto controllo in un posto solo. Quindi ragazzi, mi raccomando, link in descrizione, acquistate questo strumento molto semplice per automatizzare completamente la vostra gestione dei soldi. Io mi auguro che questo video vi sia stato utile. Ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come al solito ci vediamo in giro.